Salve profiere profiere, benvenuti a questo nuovo video, in questo momento siamo su MotoGP15, siamo su Lozain, prima gara e niente, le prove libere sono date di merda, le qualifiche sono andate bene, parto sesto, vediamo come va la gara Gli aspettiamo di carica.. parto sesto come potete vedere... seconda fila indemnino, prima dentro... gas a martello battiti... sono 6 giri Andiamo a provare Vale Scusa Vale Ops è caduto Vale Lorenzo è caduto Anche Lorenzo è caduto Anche Marquez Anche dove è caduto Quindi è caduto Una strage propria Una strage propria Iniziamo proprio bene la gara Iniziamo la gara con una strage Katara è una delle mie mie preferite Rosario Vediamo un po' Come andrà la gara Che è il lico problema dell'apriglia Se non mi ricordo male Perché io l'ho provata La pariglia È che sul dritto non va Più tanto Cioè Nelle cose si Ma sul dritto Fa fatica ad andare A cose come le cose Che salve Questo bo Ma Che riguarda No, no, no. dai si secondo vediamo se lo trino infatti sto rettilineo non è che va proprio oh, giro record eh, mannaggia, mannaggia, sono caduto alla poma curva il povertito iniziamo a girare la gara la caduta iniziamo a girare sono sei giri mancano quattro giri alla fine ragazzi ce la possiamo fare ce la possiamo fare vediamo ok pedrosa c'è secondo ah, 510 mm di stacco sono pochissimi c'è gas a martello gas a martello con la preglia gas a martello non è che la vediamo su ce la possiamo fare ce la possiamo fare 810 abbiamo preso già 13 13 perché erano 513 stacchi del maggior preso, con quell'intrattempo, buono, quattilino, quinta, 1,596 come tempo, buono, 110 mili di scatto, 110 mili, abbiamo già preso il rettilineo, buono, 3 giri alla fine, 3 giri alla fine da gara, ce la possiamo fare, guarda qui, pedroso a 1 e 2, ah sono caduto, mannaggia, mannaggia, per vedere il tempo di distacco sono caduto, mannaggia, mannaggia, non mi devo distrarre, guardate un po' di distacco, quello che è, un secondo e tre è buono, un secondo e tre, un secondo e tre, sred midline, uno cadine, bravo, uno cadine, bravo, 1 seconda e 6 destacco buono. 2 secondi e 3 destacco buonissimo, quarto giro, mancano 2 giro alla fine della gara, 2 secondi e 1 stacco, passo 210, mannaggia, in questo settore passo 210, mannaggia, mannaggia, 2 secondi e 3 stacco, 5 prati, 210, se l'ho perso, un po' qui, gas a martello, ci mettiamo, ho perso 210, per ultimo giro, per ultimo giro, questo è con 2 e 6 di stacco buono, per l'inclusivo, per l'inclusivo, per ultimo giro, per l'inclusivo, non non si come dicevo un stacco la linea fine alla fine alla fine seconda e quattro pezzo di cento decimi questo settore mannaggia mannaggia fare l'acqua più ferma solo due cadute in 6 giri buono solo due cadute in 6 giri è buono è iniziato a fare l'acqua più ferma oh buono tre cento decimi guadagnati in questo settore buonissimo buona come cosa buona veramente come cosa ottima cosa direi nel secondo e8 il distacco buono dai distacco buono nel secondo e8 non è male full gas full gas gas a martello nell'ultimo giro gas a martello facciamo un giro buono nell'ultimo giro due secondi e tre ho perso un sacco di decimi di secondo in quel settore mannaggia mannaggia ultima curva rettilineo bravo le buco fiero c'è 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 e vince primo e andiamo primo a Qatar, prima gara bene, il video si finisce qui se vi è piaciuto, mi piace, commentate iscrivetevi nel prossimo video